Ciao a tutti ragazzoli di quartiere e bentornati su Gishadzone Oggi continuiamo ad esercitarsi su chess.com giocando a scacchi contro i bot free che ci offre il sito Oggi giocheremo di nuovo contro un bot da 400 elo ma con un'intelligenza artificiale diversa Scorsa volta abbiamo affrontato il bot principiante da 400 elo quindi quello di livello 2 Oggi affronteremo invece un bot con una personalità Elani Ok, lei sostanzialmente ha una predilizione per i sacrifici quindi farà probabilmente dei sacrifici durante la partita Ok, giochiamo, c'è la sfida casuale sempre col bianco, meglio così sempre il gambetto e vedete sta già giocando beh, non sta giocando bene però sicuramente sta giocando meglio vediamo, sì qui se cambiamo le regine io mangio col cavallo lui non può farlo quindi così gli facciamo scacco ora gli abbiamo inchiodato l'alfiere come vedete non può muoverlo perché sennò perde allora vediamo, vediamo, vediamo riprendiamoci intanto il pedone del gambetto sai che quasi quasi andrà avanti col cavallo ok questa è fastidiosa però, beh non è un gran problema in realtà ci spostiamo di qua ecco ok allora se gli mangiamo questo cavallo metti che lui me lo rimangio se gioca bene non credo ci sia altro è interessante per il nero questo pedone qui perde un difensore lì però mi attacca questo però vedete si può spostare la torre quindi qui avremmo a questo punto uno, lui non c'è più uno due e saremmo in vantaggio quindi secondo me conviene mangiargli quel cavallo ok ora cambierei le torri intanto siamo in gran vantaggio rifacciamo scacco oh no ho sbagliato se avessi fatto questa mossa di cavallo avrei fatto doppio e gli avrei mangiato la torre per il mio cavallo che non è affatto affatto male vediamo che succede qui non ha non se ne è accorto non so se è successo che saliamo con la torre per difendere attacca qua vabbè allora intanto qui facciamo piazza pulita blocchiamo questo pedone ok ok scacco doppio scacco ci mangiamo la torre ecco qua fatality che ragazzi adesso abbiamo vinto alla prossima comment would you like so se vuoi vedere cia